Musica Questa mattina il nucleo di polizia economico-finanziare della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di dieci soggetti, otto in carcere, uno agli arresti domiciliari e un obbligo di dimora nel Comune di Napoli, gravemente indiziati di appartenere a un'organizzazione criminale napoletana dedita al narcotraffico. Al vertice della predetta organizzazione sarebbero collocati i fratelli del re Armando, alias Apacchiana e Antonio, collegati alla malavita organizzata del quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio. I due erano già reclusi poiché ritenuti responsabili dell'agguato commesso il 3 maggio 2019 in piazza nazionale nei confronti di un urcaro Salvatore legato al Canreale, per questioni inerenti alla gestione delle piazze di spaccio. Nella stessa vicenda rimase gravemente ferita da pallottole vaganti la piccola Noemi e più levemente la nonna. Dalle indagini in corso in cui è fragente da parte dei finanziari del GICO di Napoli emersero indizi decisivi che contribuirono in maniera determinante a individuare i fratelli del re, quali organizzatori ed esecutori del tentato omicidio di Nurcaro, che esortì drammatici effetti su persone innocenti. L'organizzazione criminale, caveggiata dai fratelli del re, secondo gli esiti investigativi, era una delle più attive nel traffico di stupefacenti nelle principali piazze di spaccio di Napoli e provincia. I rifornimenti avvenivano attraverso autovetture dotate di doppi fondi. I successivi approfondimenti investigativi hanno portato anche al sequestro di oltre 3 kg di hashish e alla ricostruzione di linee di forniture di stupefacenti a favore di un sottogruppo operante a Cattolica in Emilia Romagna. Gli accertamenti economico-patrimoniali portati avanti in parallelo dal GICO hanno inoltre fatto emergere che la quasi totalità dei soggetti colpiti dai provvedimenti restrittivi sono beneficiari del reddito di cittadinanza. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in serie di indagini preliminari, avverso cui sono emessi mezzi di impugnazione e i destinatari di essa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.